ehi un libro in questo potete prenderlo per salvare il carto ok per la festa acqua per l'ho assoluto si ok allora per salvare il signor stronzo voglio prendere la cascetta che sta lì su che sta là ecco io vado subito a parlare subito quando tu lo ripari il signor cuttrap ti apre una porta dammi la porta eeeh apri no no non è la cosa è soffianti di gente è morto questo è morto proprio no no non è possibile mettilo sta voce ehi tu straniero seguimi e vai ma muofti ti prego un'arma che ci serve assolutamente o comunque si trovano duri ogni seconda ma che ca scubi un revolver oh questo scudo è buono credo allora c'è qualcuno che si piglia lo scudo da 300 eh prendo io che sono il tancone ah io pio l'altro lo dite dell'altro vabbò io mi pego il revolver che revolver fermo ah io non lo posso nemmeno mettere perché è livello 13 manco io ah lo prendo lo stesso ah no il mio è livello 16 quello da 300 ah ma sei fottuto non so che sono fottuto ma che siamo fottuti già del nostro che si affocò con la pinta oh merda non sono stato io come immagino che ci sta non sono stato io oh dio porca puta spostatevi ho paura aiaaa va bene pura senza munizioni buono eh a me sono senza cosa mi serve più in me ho fatto il livello no no non stanno per fare la testa vivo 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 fermi tutti e adesso si va di revolver questo lo prendo io perché perché deve qua sotto c'è qualcosa no c'era un coso di munizioni pompa pompa ci sono le emulizioni per il pompa no aspettate un po' a te il punto eh dove lo metto sto po' io lo dico io eh vabbè non facciamo i scurriti sempre a pensare male sempre a pensare male eh apriamo 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 erano tutta merda c'è un pistola qui dentro eh sì però dove c'è erano due fucili da precisione che non mi posso mettere livello 16 no voi vi fotte dei fucili di precisione non dite nulla vabbè no di assalto scusi vabbè ah mi sento già meglio avevo capito roland ma non è che lo devi ripetere ogni 3x2 facciamolo sentire meglio roland no beh roba che non mi interessa a me sto morendo non lo facci sto morendo ah no sto stando in brutta metto bloodwing che adesso ogni volta che copisce un nemico rilascia quattro ho munizioni o eh spero che questa non muore bene così non posso ti piace con quale doppiaggio si ok adesso siamo nella Siamo pronti mentalmente Aspetti che è qui sopra Ma qua la roba è infatti Sto a guardare Sono delle cose Questa c'è qui sopra Io sento degli respiri Non c'è niente qui Non c'è niente qui C'è qualche cazzo C'era una cazzo la sopra E' vero E' vero E' vero E' vero E' vero Da qua si va E' saltino Saltino saltello Ah ah Vediamo cosa c'è Ragendare Attenzione C'è un fucile blu Per attirà Ma vedi Cos'è cos'è Una pompa Esplosivo Me lo porti giù Me lo porti giù che è Io lo porto giù Putta giù Aspetta eh Ma ma che cazzo è Ma sto sto Esplode dall'imposto causando un errore quantità di danni Dico Ma me lo aspettare Non ce ne frega un cazzo Non sono una madonna ma Ci proverò Quindi Ok abbiamo le munizioni bassissime Eh si E vabbè ce ne faremo una ragione Proviamo Sentiamo Sentiamo Vi suicidiamo Vi suicidiamo Oh Ma qua c'è il tizio gigante Ah proprio senza intro Vabbè Una volta facevano Le intro No Ci sono le intro Ma problema Dai che i bambini si stanno sbagliando Eh i bambini fanno più male dei grandi Ma Ma Mi fai pazzire Perché Più barman Merda ce la con me adesso C'è 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 Aiuto Abbo Smochere proprio io Alza il culo Ah rito bene Non serve più il medico Ora attenzione a poppa Eh Oh ezra Aspetta Ma non è possibile Dai Aiuto Salvati la No no Le lanciate le roe Sono senza munizioni Avanti cammina Vai bro dai giro Appena è tempo Eh no Ecco State Il Ano Eh Allora E Allora Allora Ha Qua un tempo non c'era Il caso per comprare munizioni? Si No 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 c'era Perché sulla mappa è segnato Sul quadrino sotto No come cazzo le prendiamo le munizioni? Eh non le prendiamo Non è problema Io non c'ho un cazzo Non manco io Non c'ho infatti bene Ma sei ricaricato diventa lui Eh ovviamente Guarda là No no Grandissimo Non ha cacciato niente la me Ha cacciato un caricatore C'è Kina tutta la sua panza che fa pure schifo Ma che schifo è Ha voluto Una cassa Un qualcosa No eh Eh qua è uscito da qui la cassa Ti parla di qua uscito da qui Ah eh dobbiamo attivare la roba Piccio Piccio Questa roba Ah chiave della miniera Adesso dovresti riuscire a entrare nella miniera Oramai niente ti impedisce di raggiungere Sledge Ho fiducia in te Eh ma insomma Una cassa Niente No Ti lascia buca shooter Ti fa proprio schifata Un'altra cassa eh Mamma mia oh Abbiamo un'arma buona Siamo a livello Sia una merda proprio schifosa Sia una merda proprio schifo Ho capito però Ma dove cazzo sto andando? Vabbè la stessa cosa Servala munizioni! Eh grazie Non c'è nulla Eh non c'è nulla no? A dove cazzo sto andando? Eh io seguo lei Eh eh seguo a me Mi sono messi bene Non mi ricordo più la strada Ah no ecco Non è niente Non è questa Ah era qua era qua non è qua non non sto sbagliando mi ricordo un cazzo adesso io non mi ricordo che vedi la mappa no? che cosa fare tamo? e la finiamo? a me pare che... comunque quella porta di lago questa è qui? è andato chris eh sì chris ah infatti ah vedi c'è stampa l'estratto è un asunto Dorda ancora sta cercando la strada vedi l'escrizione Oh merda, un palestrato duro, orte! No, dai, non è possibile, dai palestrato duro! Ehi, vabbè! No, ma non si può pop up, eh, niente! Eh, percanzi! Ma porca troll! Sinceramente non me l'aspettavo così difficile! Oppure noi abbiamo giocato a... Ma forse perché siamo in tre! Eh, ma in tre un po'... Così si alzava dalla difficoltà! Eh, non sono in quattro! Ma guarda che... Eh, ma questo lancia i missili! No, perché è uscito? No, perché... Sì! No! 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 un po' o meno della metà poi c'è da non distemmiare qua madonna, un colpo ti l'hai vado tutto ragazzi senza munizione, non ho munizione non ho nulla ehi, ho finito pure io tutto non c'ho più un cazzo devo mettere il fucile al volo pure un bretto qua ma io non ho nulla muori merda ha lasciato un bazook non saresti da quando venire qui io non la pagherai sono senza munizioni è una ferita superficiale ok in piedi soldato e... e qui si è dovuto andare di mischia qualcuno se lo prende sopra a zucca nei casi estremi è il mio più forte l'abbiamo sopra qua incastra ma... oh scampi ah i pugni i pugni o che ti rendi con questo tipo... l'abbiamo ammazzati mischia l'abbiamo ammazzati mischia l'abbiamo ammazzati ah dici ah ceci mi sono a volte ho capito il mare estrem ah Noi, non so, non so. Ma che ha sparo da un colpo? È come avere un altro soldato al tuo fianco. Ehi! Ma tu ti sti non mi dici? Perché? Ancora? non saresti dovuto venire non puoi scappare mercenario ci dobbiamo un zapp tutti del corpo al coro veramente sono ammazzato un colpo solo vai non nemmeno possiede la seconda è un momento continuo oh madonna no è un atleta superficiale minizioni a zero numero dei cadaveri in aumento minizioni a zero minizioni a zero minizioni a zero non mi serve più il medico minizioni a zero minizioni a zero no no stiamo tornando indietro si no Sì. Sto colendo più un cazzo. Casino. Mi stia dicendo che abbiamo fatto tutto questo per niente. Esperienza. Ecco, porra. Le tue granate non dovrebbero semplicemente esplodere. Personalizzate con un nuovo mod, oggi. Cioè vuoi che poi ti parli di cosa? Sto casino con ok? Ho 21 di vita. Sì. 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 Per aumentare i colpi. Io questa cosa non l'ho fatta. Capienza delle cose. Sì. 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 Duro li è? Sì. Voi che tu? Che l'ho fatto Voglio solo dare una sbicciato Oh, io da solo l'ho sbicciato Vedete Ma no, credi, credi, torna indietro, credi Cioè, pensai, non ci pensai proprio quando andai là Ma no Oh no Cioè, a fianco a d'extra ho dovuto vendere in d'extra Oh no Oh no Oh no Un altro che mangia la polvere Oh no Il taglio colpito Porca zoccolo E' come a Natale Una fiala di energia E' spettacolare Per uscire Per uscire Per trovare i nostri scappi Sento già meglio Qua già sentono un brutto rumore Eccola Dov'è? Oh Ma c'è qualcuno che tiene il punteggio? Qua Abbiamo, insomma, aumentato il livello Eh, Luiz Eh, ma ci saranno anche le armi E le armi, le non so Qua c'è dell'energia Un'arma verde Le nascendo Cos'è? Ah, un revolver Tre colpi Colpi, porca Ma che cazzo sta a dire Versiamo, però E via Consegniamo la roba E chiudiamo Le baracche E chiudiamo Era questo? Eh, non so Oh No No? Non dice di là Al sud-ovest La macchina Macchinina Andiamo troppo piano Vadi Guida Eh, ma me scrivono su Steam, ma Eh, buonanotte Dov'è? Dov'è? Aspetta un po' Ah, vedi? Oh, oh, oh Oh Sì, sono 300€ di mulca qua, eh Ehi Ehi Vieni qua, io non me ricordo più le strade Vadi, vadi Vadi Tutto quello che hai affrontato finora Non è nulla in confronto Eh, non è nulla Allora? Scendo Non sottovalutarlo Che bea Ebreva la maltrata Eccolo Eccolo Eccolo, tizio Questo non è nulla Quello che abbiamo affrontato Sì Eh Ma fino adesso non abbiamo fatto Cazzo Tra puntata sono bestemmioni Eh Mi aspettano altre pestiglie Ancora più grandi Il bambino